Ronaldo ha speso oltre un milione di euro per poter indossare la sua auto al polso. Cosa? Ronaldo non è noto solo per le sue abilità in campo, ma anche per il fatto che possiede non una o due Bugatti, no, tre Bugatti e una sola costa una fortuna. E poiché le ama così tanto, ha fatto realizzare un orologio che assomiglia esattamente al motore della sua Bugatti Chirou. L'orologio è composto da molti diamanti e naturalmente dal logo CR7, valore stimato un milione di euro.